Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash Oggi in questo video ragazzi volevo andare a sbloccare gli equipaggiamenti al Duca Zucca e in più andare a portare un po' sulla skill a pallone Doom Quindi intanto andiamo subito sul Duca Zucca che se non erro dovrebbe già stare al livello 20 perché è uno degli eroi principali quindi gli ho portato subito a 20 Il livello di equipaggiamento insomma quindi andiamo ad aumentarlo Ah dobbiamo andare a prendere ovviamente la runa quindi andiamo qui Ci becchiamo la pietra di aumento a 3000 Andiamo aumenta ok ovviamente di copie ne ho tantissime E possiamo andare a sbloccare questo nuovo talent uscito con furia sfrenata che aumenta velocità di attacco il 10% su Zucca perfetto Ha un 6% di possibilità di stordire un obiettivo nemico per un secondo quando attaccato Ottimo recupero di 8 secondi Va bene allora andiamo un attimo a vedere qui che cosa è uscito Sul Duca Zucca quello che vorrei metterci è qualcosa Sul precisione e schiva Diciamo vorrei farlo precisione e schiva Facciamo qualche roll con meriti Che ne ho davvero molti Quindi andiamo un po' a vedere se becchiamo a culo dato che mi è uscito anche un 5 Resistenza al critico ovviamente Non mi piace aumentiamo lo stesso la caratteristica Almeno deve essere un qualcosa a 4 Sicuramente altrimenti è del tutto inutile Punti ferita sul Duca Zucca non ci facciamo niente quindi lo buttiamo via Andiamo un po' a tutti 1 3 io guardo ovviamente soltanto il livello perché deve essere almeno a 4 A meno che non vedo tanti 3 ma Finora di nuovo resistenza al critico che non ci serve Comunque non esce un bel nulla Un bel nulla qualcosa di danno Danno precisione danno Non mi piace Un sacco di pf 3 danno Niente da fare Tutti 1 che tristezza Tutti 1 che tristezza Dai almeno 1 con i meriti ce lo devo beccare Poi magari critico Non c'ho proprio niente sul Duca Zucca di critico Allora Niente 2 2 2 La tristezza totale Dai Becchiamoci qualcosa Tristezza totale Un sacco di pf Mamma mia Dai Stanno finendo Non è uscito un bel nulla proprio Dai Maledizione Maledizione Mi casce uno schiva 4 Va a cagare Dai 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 schiva 4 Schiva 4 5 Resistenza al critico 5 Sì ma resistenza al critico Cioè Cioè Tanto la sciotta non zucca Critico non critico Non mi piace per niente Quindi sostituiamolo Vediamo un po' Vediamo un po' Voglio beccare qualcosa Oh Perfetto Ho fatto bene Schiva 5 Va benissimo Questo Va benissimo E a questo punto Proviamo a Droppare qualche altra cosa A botte di 5 gemme Precisione 5 Top Perfetto ragazzi Perfetto Precisione 5 A 165 Potremmo rollarne 1 Abbiamo già schiva E precisione 5 Potremmo rollarne 1 A 165 gemme E becchiamo Critico Un altro Vediamo Boom Abbiamo beccato Pf5 Danno danno Una tristezza totale Una tristezza totale Ma Ma Per il momento Va bene così Per il momento Va bene così Diventa un po' Più damager Si becca Bei pf Quindi Direi che ci siamo E anche il primo rolling Che faccio Con le gemme Di queste caratteristiche E quindi sto notando Che con solo i due roll Sono usciti praticamente Tutti i 4 e 5 E la differenza È drastica Fatto è però Con i meriti Se ne guadagnano tantissimi Al giorno E quindi si possono fare Aiosa Diciamo Anche se Superati i primi Vanno aggiunte le gemme Detto ciò E sistemata A dovere La zucchetta Sono felice Perché è uscita Proprio una bella Zucchetta Possiamo Andarci a poppare Pallone doom Qui Pallone doom Dove sta Quanto manca La skill a 7 Al momento 225 mila Quindi Dovrebbero essere 15 15 15 di quelle sfere Qui Sì perché 10 Dovrebbero essere 15 Se non ho fatto male i conti Allora Andiamo a vedere un po' 15 Ok Torniamo sul Pallone Doom 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 Allora Guadagna ex Poggetti Dovremmo Precisamente Livello 8 Andiamo a utilizzare Livello 8 Poi abbiamo 675 K Quindi se 150 Sono 10 20 Sono 40 Più 75 Sono Dovrebbero essere 45 sfere Andiamo a vedere Un attimo Quando ci costano 45 sfere 31 K Ok 45 sfere 33 750 Andiamole a prendere E andiamo a portare La skill Di Pallone Doom A livello 9 Non si può Ah bisogna farlo salire ancora di livello Non ci avevo fatto caso prima Quindi vabbè Come sale Gliela porterò su Intanto le sfere Me le tengo Magari potrebbero essere utili Per qualche altra cosa Ok Fatto questo Ultima cosa Dovevo andare a fare Due raid Qui E quindi andare a provare Un po' anche questo pallone doom Dovrebbe esserci Anubis Che ce l'ha Perché ovviamente Pallone doom ragazzi Fa Aumentare il danno Che l'eroe subisce Quindi Va drasticamente meglio Su Anubis Dura anche più a lungo Sopravvive più a lungo Allora Vediamo un po' Qui possiamo Provarlo Come lo proviamo Proviamo a vedere Il danno che fa Mettendolo qui Vediamo Se riusciamo a beccare Un danno Di pallone doom Prima che schiatta 52k Al castello Ha fatto 52k Che comunque Sono proprio tanti E aiutano davvero Tantissimo I war Per finire Le strutture Le ultime strutture Dopo che skill ammino Se avete visto Gli ultimi video Di war Prete caso Che le strutture Che rimangono Questo pallone doom È davvero fondamentale Per poterle tirare giù Quindi Mi vado a prendere Questi due raid Anche se Al momento Ho il team Da guerra tra gilde Quindi Non c'è Zucca Non ci sono I buff Ok 51 Dovrebbe bastare Ma ce lo andiamo A prendere 100% Vediamo un po' Pallone doom Non siamo riusciti A beccare i danni Ma ha concluso Il raid Il pallone doom Continuiamo Un pochettino Facciamo il secondo Attacco Il secondo raid Va bene Qui Facciamo così E all'ultimo Ghiacciamo tutto Vediamo un po' Se riusciamo a beccare Qualche danno Sì Sempre comunque Sui 50k Pallone doom Vediamo un po' Dovremmo aver superato Il 50k Se è sciolta Le strutture Purtroppo Non si vede Il danno Vai Vediamo un attimo Pallone doom Qui ha fatto 59 Quasi 60k Di danno Vediamo adesso Che rischilla 55 61 1700 Sono davvero Bei numeri Per quel pet Perché come vedete Sciotta Veramente le strutture E se rimangono Con poca vita Le fa fuori Molto 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 Facilmente Come si può Vedere Anche da questo raid Intanto bellissimo Il mini ninja Evocato da golem Direi che per questo video Ragazzi è tutto Usato tutto Non manca soltanto una cosa Ma vabbè Non fa niente Se vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Fatemi sapere cosa ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao